Wow Rosalia, ma che spettacolo che sei! Mamma mia, fai un giro su te stessa tesoro? Brava, brava, brava! Ma che meraviglia! Rosalia, siamo arrivati alla fine della tua permanenza con noi, vero? Come ti sei trovata? Bene. Bene. Come è stato indossare questo abito la prima volta? E' un po' emozionata. Sei bellissima. Tu sei venuta qui e hai detto io voglio un abito da vera principessa. Giusto? E noi ti abbiamo portato questo abito che effettivamente è da vera principessa. L'abbiamo un pochino sistemato per te perché abbiamo messo questa bella bretellina un po' più luccicosa perché il peso dell'abito c'è, ci voleva qualcosa che lo sorreggesse nel modo giusto. Gli abbiamo messo questo fioccone, fai un giro, facciamo vedere questo fioccone meraviglioso per incorniciare il dietro dell'abito, fai un altro giro Rosalia? Ecco qua, gonna spettacolare, tutta in tulle brillé, pizzo in ramage con questo bordo di crinella sotto che mi apre tutta la gonna. Sei pronta per questa comunione? Sì, che cosa ti aspetti, cosa ti diranno secondo te quando ti vedranno? Eh, che bello. Solo bello, per me è wow, giusto? Allora diciamo a chi ti sta seguendo che se anche loro vogliono un abito wow, li aspettiamo qui da Michele Litt, vero? Sì, seguiteci sui nostri social perché vedrete non solo Rosalia ma spose, altre bimbe meravigliose come lei e tante altre cose. Vi aspetto, ciao!